benvenuti amici youtube qui okra 1993 il video di oggi sarà un nuovo video riguardante la profile aggiornata del mazzo atlantico sirenide siccome è uscito il nuovo pacchetto eternity code che andrà ad aumentare tantissimo la potenza di questo mazzo ci sono tantissime carte che possono essere giocate tantissime versioni ovviamente disponibili vi mostrerò la mia lista aggiornata appunto per queste ragioni quindi partiamo subito iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto così non vi perderete altri contenuti riguardanti atlantico sirenide e altri contenuti yugioh seguitemi okra 1993 su youtube facebook e instagram seguite il mio team competitivo di yugioh di omnia players su instagram e su facebook e scaricate l'applicazione yugioh 2 calculator per controllare i vostri life points quindi partiamo subito con questo fantastico mazzo se volete vedere le combo riguardanti al mazzo vi lascerò la playlist combo tutorial qua in alto a destra andate a vederla perché ci sono delle combo fantastiche in cui puoi togliere 5 carte dalla mano all'avversario 4 e stare sicuro contro il nibiru dell'avversario ci sono combo che ho inventato in cui puoi fare solkin addirittura con il crystal wing e anche una combo in cui fai king calamity nel turno dell'avversario quindi andate a vedervi le combo perché sono fantastiche partiamo subito con il mazzo 40 carte di main deck ovviamente perché volete vederle il prima possibile quelle che vi servono abbiamo per il comparto mare profondo tre copie di dipsy diva diva del mare profondo che secondo me va giocata a 3 anche se alcuni pensano che sia meglio magari a 1 o 2 perché si becca la entrap ma secondo me non è vero va giocata a 3 perché ti porta a neptabis perché è un tuner che ti fa fare ovviamente needle fiber e anche tante altre cose quindi assolutamente importante poi sempre per il mare profondo abbiamo due copie di minstrel secondo me è l'unica carta che merita di essere giocata almeno in questa versione ci sono anche l'artisan sentry e altre carte di psi però la minstrel è quella più essenziale a mio avviso alcuni ne giocano 3 secondo me 2 va bene perché comunque la terza sarebbe eccessiva poi è un serpente marino quindi te la puoi anche serciare in altri modi nel caso ne avessi bisogno ti toglie le entrap dalla mano all'avversario quindi forte forte poi per quanto riguarda gli atlantici abbiamo tre copie di neptabis il principe atlantico lui ovviamente va giocato a 3 perché è il motore principale mandi un atlantico aggiungi un atlantico e cosa vuoi di più dalla vita poi abbiamo tre copie di dragoni atlantici che è il target preferito di neptabis per essere mandato al cimitero carta pazzesca perché ci cerca qualsiasi roba ogni serpente marino inclusi i megalo muling glassia e soprattutto drago lapis che ci permette di fare needle fiber in maniera assolutamente easy e poi ultima ma non ultima una copia di fanteria pesante atlantica secondo me non c'è bisogno più di giocare il cecchino come immaginavo perché comunque andando primi non serve assolutamente a nulla andando secondi spesso ti chainano le carte quando attivi il cecchino quindi un po sprecato alla fine penso che questa da sola sia più che sufficiente poi per quanto riguarda i mere mail barra sirenidi abbiamo tre copie di abisteus questo qui ovviamente quello che vuoi giocare in tre per assolutamente senza ombra di dubbio il più forte di tutti scarti uno cerchi uno e niente da dire troppo forte e poi due copie di sirenide abys megalo questa carta secondo me non non c'è bisogno di giocarla in tre per alcuni lo fanno magari una variante going second sì ma andando primi va bene ci sono già tante troppe carte che vanno a scartare i nostri mostri acqua quindi non ti serve avere multipli megalo in mano e poi per i piccolini abbiamo un pike e una gunde pike è diventato più importante per la combo anti nibiru che vi lascerò qua sopra andate a vederla livello 4 e gunde ci sta perché resuscita va a fare delle combos grave alcuni ne giocano due ma anche qui secondo me non serve perché te la puoi cercare con abisteus ed essendo un livello 3 te la puoi cercare anche con abispike stesso quindi va bene così per gli altri serpenti marini utility abbiamo un drago lapis e un muling glassia entrambi utilissimi perché drago lapis ci permette di fare needle fiber quando ci serve perché lo cerchiamo e si evoca in special da solo e muling glassia ovviamente utilissimo per land loop perché va a togliere due carte dalla mano all'avversario e non è assolutamente male poi per il comparto carte che scartano cose al cimitero per attivare dipsy aria si si chiama così abbiamo una pastinaca bianca tre copie di swap frog e un rospetto ronin finalmente swap frog olo mamma mia che bello allora queste sono tornate perché perché appunto dipsy aria e richiede un mostro acqua al cimitero per essere attivata quindi noi dobbiamo cercare assolutamente di mandare un mostro acqua al cimitero questo è il motivo principale per cui ci sono le rane sono anche forti perché comunque puoi puoi fare dei ricicli e delle combo strane con le rane e poi puoi mettere una rana sulla tod sul terreno la todali prima di fare le altre cose così sei a posto dalle entra dell'avversario eccetera la pastinaca bianca per chi non la conoscesse è un mostro di livello 4 che scarta 1 per entrare in special non attiverà l'effetto degli atlantici esattamente come le rane perché non è uno scartare di costo però è utile appunto perché ci mette un acqua al cimitero per aria e poi è un livello 4 quindi si possono fare le giocate interessanti anche e soprattutto con il bujinki a hashima che vedremo nell'extra deck poi ultimi i tuner abbiamo un pesce cyborg lanciatore e un jet synchron questi due secondo me vanno giocati entrambi abbastanza obbligatoriamente perché perché il fish for launcher lo andremo a fare tutte le volte in cui siamo costretti a evocare acqua oppure se non ci interessa avere per forza jet synchron comunque lui si rispeciala gratuitamente dal cimitero senza nemmeno scartare uno solo che quando facciamo la combo anti nibiru e evochiamo coral anemone siamo costretti a evocare solo acqua quindi con il fiber andiamo ad evocarci il launcher jet synchron obbligato perché il tuner più forte disponibile secondo me per quanto riguarda le magie abbiamo tre copie di murena della vita una carta veramente fantastica che sto rivalutando soprattutto in questa versione è veramente importante perché è in grado di rimischiarti il pesce il pesce cyborg lanciatore il rospetto ronin e soprattutto come dico sempre il drago lapis perché se questo lo becchi in mano nella mano iniziale è morto invece con murena lo puoi rimischiare se lo ripeschi di murena stessa lo puoi evocare special quindi è una giocata balorda e murena a differenza delle altre carte anche quelle che vedremo dopo è in grado di aggiustare la mano e di aiutarti ad arrivare ai combo piece poi abbiamo due dipsy aria che anch'essa può aiutarti assolutamente sì però appunto ha bisogno di un mostro acqua al cimitero per essere attivata motivo per cui sono tornate le rane perché c'è la pastinaca e tanti altri scartini compresa la dipsy minstrel e poi ultima ma non ultima una giara della varizia appunto mi riferivo a questa quando parlavo di murena nel senso che alcune persone giocano due copie di giara della varizia che ci può stare ma secondo me no perché alla fine ci bricchi sopra e questa è una carta che tu vai ad attivare quando hai già cinque mostri al cimitero quindi vuol dire che devi avere già scombato un minimo e quindi non ti va ad aggiustare una mano per concludere il tuo board ma ti va a fare solo da extender quindi secondo me murena è più importante della giara poi per le ultime magie abbiamo una copia di uno per uno perché è un altro neptabis va giocato e poi tre copie di richiamato dalla tomba che anche se non mi piace va giocata assolutamente perché se ci becchiamo una entrap sulla diva piangiamo oppure un corvo una lancea a volte anche queste cose qua fanno male e poi lancea ovviamente per rospetto roni in carte del genere un abisso scaglia del mizuji perché vogliamo tk se andiamo secondi e perché questa carta qui se la piazziamo sul field andrà a bloccare carte come super polimerizzazione e dark ruler no more so già che mi chiederete di nuovo nei commenti ma come fa abisso scaglia del mizuji a negare non è possibile non nega si mizuji nega super poli dark ruler no more perché come vedete quando l'effetto di una magia che è stato attivato sul terreno il tuo avversario si risolve annulliamo quell'effetto non crea catena né niente quindi loro fanno super poli in risoluzione super poli mizuji nega bom fidatevi di me e poi ultima ma non ultima una abisso sfera che ho inserito perché eldlitch è un problema quindi abisso sfera ci permette di fare una giocata con trisbena evocando un mermail nel turno dell'avversario trisbena che vedremo nell'extra deck appunto parlando di l'extra deck partendo con i sincro abbiamo le locuste del deserto che ci permettono di togliere un'altra carta dalla mano dell'avversario grazie a needle fiber lo evochiamo nel turno dell'avversario un borreload savage dragon che è un neghino generico un ottimo sincro 8 generico veramente forte un sci-frame lord omega che ci permette di togliere carte dalla mano dell'avversario e un trisciula drago della barriera di ghiaccio che ci permette di togliere le carte dalla mano dell'avversario quindi versione end loop che è veramente tosta secondo me dà un sacco fastidio trisciula serve anche comunque per quando andiamo secondi perché ci aiuta a ribaltare i board poi per quanto riguarda gli xyz abbiamo una davvero rospotente che come detto prima ora è fattibile anche con le rane nel main cosa utile perché se partiamo magari con rana più acqua più altro più nept abyss magari possiamo fare prima la rospotente così siamo tranquilli che non ci beccheremo ulteriori entra sui nostri combo piece e poi procediamo con la combo poi abbiamo uno squalo bahamut che va a portare la rana in tantissime altre occasioni assolutamente necessario anche molto facile da fare grazie a bugin che a hashima un abitante dell'abisso che è il mostro più forte dell'extra deck come sempre e un mermail abyss gaios che un mio iscritto mi ha fatto notare che adesso in ultimate sta sui 20-25 euro e bene così non mi posso assolutamente lamentare il prezzo del mazzo è effettivamente aumentato me ne sono accorto un po' tardi non me ne sono accorto perché le carte le avevo già tutte poi per quanto riguarda i link che sono la maggioranza anche se la gente pensava che con la master rule 5 non si giocavano più i link e io dicevo di no e infatti è vero abbiamo un link uribo che secondo me è necessario nessuno lo gioca più però tante volte ti converte un neptabis che magari ti rimane sul field in una carta che dà fastidio all'avversario comunque nel turno dell'avversario e inoltre a volte ci serve il quinto acqua per fare muling glassia e in questa maniera ci arriviamo easy mandando neptabis un bujinki a hashima questa carta è veramente fortissima e ti permette di aggiustare diciamo tutte le mani in cui parti magari non con teus dragoni ma parti non so con neptabis più altro megalo con altro vi assicuro che questa carta qui torna veramente veramente utile e si usa tantissimo anche più di quello che io stesso immaginassi poi abbiamo un cristron alchifibrax carta fortissima assolutamente da giocare in più è anche acqua quindi in questo masso una sinergia extra una sirenide abissalacia che è forte perché ci equipi la mizuchi perché fa dal dry dent scartando la fanteria pesante ed è l'unica carta in grado di aggiungere teus dal deck alla mano purtroppo solo nel turno dell'avversario come immagino voi sappiate una maricipessa anemone corallo che ci permette di fare la combo antinibiru che ci permette di riciclare la roba anche in late game quindi molto molto forte possiamo rievocarci neptabis, le rane possiamo fare veramente tante giocate con questa carta qui poi un trisbena topologica che come vi ho annunciato prima è forte perché va in combo con abissosfera che ci possiamo aggiungere di teus e contro mazzi che settano 5 eldlich soprattutto è importante magari evocare nel turno dell'avversario con l'abissosfera evocare sotto trisbena e li togliamo tutto una volta per tutte in modo tale che le carte non tornino e non ci diano più fastidio e poi gli facciamo anche dei danni poi ultima mano ultima una Apollo usa arco della dea per concludere l'extra deck una carta generica che comunque serve primo contro mazzi che magari non soffrono l'endloop trasformi in needle fiber poi in Apollo usa insieme a qualcos'altro e va benissimo così per quanto riguarda la side abbiamo due copie di Corvo DD che secondo me è abbastanza staple ora come ora e anche abbastanza sottovalutata così come artefatto lancea perché DD Crow è forte contro eldlich contro salamagna contro adamantia contro mermail contro dino è veramente veramente forte questa carta potrei anche pensare di giocarla 3 poi abbiamo due copie di sorella fantasma questa carta qui è OP al tempo quello sicuro potrebbero essere benissimo due lancea forse dovrebbero essere due lancea ma questa carta qui mi piace veramente troppo quindi per ora la gioco quando finisce il tempo la tirate e non c'è modo che voi possiate perdere perché guadagnate life points per forza e la cosa importante di questa carta vi assicuro che ha un senso è che è un'altra carta in grado di mettersi nel cimitero un altro mostro acqua per attivare la nostra dipsy aria questo possiamo farlo ovviamente nel turno dell'avversario se noi magari andiamo secondi mettiamo queste di side e la tiriamo e quando tocca a noi abbiamo subito aria disponibile anche come prima mossa il che è una cosa molto molto forte inoltre è un livello 3 e quindi si può aggiungere dal deck alla mano con pike che è una cosa assolutamente da non escludere perché appunto se stiamo magari andando primi e il tempo sta per finire anziché fare combo strane ci aggiungiamo questa passiamo e abbiamo vinto poi abbiamo un pancratops sempre per andare secondi perché il mazzo va primo quindi la side è per andare secondi che spacca mostri spacca spell e trap ci permette di attaccare sopra roba è veramente enorme e poi due gametel anche qui così come in dino andatevi a vedere anche la mia profile di dino sto tagliando i nibiru perché troppi ci giocano intorno troppi sanno che che c'è nibiru in giro e quindi è meglio avere dei kaiju extra o golem di lava o sfere di ra perché comunque questi qua se li peschi come sesta vanno bene in primis e poi appunto l'avversario non può giocarci intorno e ti tolgono carte problematiche poi per le magie abbiamo un controllamente che secondo me è sempre molto 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 forte anche se è mono va giocata poi tre twin twister per togliere di mezzo i mazzi che settano troppo che a noi danno molto fastidio e inoltre è una carta che scarta quindi anche qui avremo la possibilità di rendere viva la nostra dipsy aria grazie al twin quindi preferito rispetto a un cyclone poi due copie di essenza antimagia con un ordine imperiale possono essere anche tre antispell ma secondo me ha sempre più senso giocare in questa maniera e poi un riavvio rosso per concludere la nostra side riavvio rosso forte perché ci permette di otkare tanto è un mazzo che fa otk abbastanza easy e li settiamo tutto lui non può più attivare e lo chiudiamo quindi per oggi è tutto mettete un like per il picchiere atlantico che ho trovato nel bulk delle carte mermail è veramente bellissimo mettete un like se vi è piaciuta la profile fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate dei nuovi supporti mermail che sono arrivati come pensate di giocare questo mazzo e quante carte di psi nuove pensate di inserire se vi è piaciuto appunto lasciate un like iscrivetevi al canale per non perdervi ulteriori contenuti riguardanti il mazzo atlantico sirenide e altri contenuti relativi a Yu-Gi-Oh seguitemi Okra1993 su youtube facebook e instagram seguitemi il mio team competitivo di Yu-Gi-Oh di Omnia Players su instagram e su facebook e scaricate l'applicazione Yu-Gi-Oh Dual Calculator per controllare i vostri life points e alla prossima on and on we'll go ciao